Ci siamo! Finalmente incastri è online. Potete ordinarlo su Amazon cercando incastri di Roberta Leonardi e appariranno i due formati disponibili che sono il formato ebook ed il formato cartaceo. Scegliete voi quello che preferite. Spero che in tanti poi vi manderete magari una vostra foto con il libro così potrò creare una nuova galleria con tutti coloro che hanno letto incastri. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente vi aspetto sempre sul sito www.incastrionline.it per avere le vostre opinioni e poi anche su Amazon se volete potete lasciare una recensione che aiuta sempre anche nell'essere scelti da qualcun altro. Quindi a tutti quelli che so che l'hanno già ordinato e ai quali arriverà mercoledì, credo. Dico già grazie. Sono contentissima, sono molto felice. Oggi è il compleanno di mia madre e questo libro è tutto suo. Quindi grazie, grazie davvero. Incastri adesso si può leggere. Un bacio, ciao!